Un appuntamento importante, un appandamento importante con la Banca di Bologna? Sì, forse la prima parte ci è strutturata con una banca, abbiamo fatto qualcosa e è passato proprio con la Banca di Bologna, ma questo è un accordo più a lungo termine che coinvolge le due strutture, perché non è solo il classico accordo di sponsorizzazione, ma sono previste una serie di iniziative importanti che riguardano temi di responsabilità sociale, supporto allo sport amatoriale, soprattutto a Bologna senza barriere per quello che riguarda l'attività delle persone con disabilità, per i giovani, per l'ambiente, quindi è un vero impegno con il territorio, è una cosa che mi piace sottolineare come oltre un club calcistico che ha la sua principale funzione nel conseguire risultati e diano soddisfazione a noi calciatori e tifosi, c'è anche però una società che vuole essere attiva e presente sul territorio di riferimento e questo lo faremo anche insieme a Banca di Bologna. Presidente, un grande orgoglio non solo come Banca di Bologna, ma anche come tifoso del Bologna Calcio. Beh sì, come dicevo prima, io a dieci anni venivo in curva con mio padre, quindi Bologna è una cosa che ho nel cuore da molto tempo. Devo dire la collaborazione tra la Banca e Bologna data tanti anni, perché forse appunto vent'anni fa avevamo già i nostri cartelli nello stadio, nelle posizioni del corner, poi abbiamo, mi piace ricordarlo, nel 2010, in dicembre del 2010 abbiamo fatto qua questa famosa conferenza stampa per mettere insieme quella cordata che poi in qualche modo si è trovata in Bologna e ha consentito poi che nel 2014 ci arrivasse finù, ci arrivasse saputo e in quell'occasione abbiamo dato una buona mano perché si riuscisse a costruire quella cordata. Quindi questo è solo, come dire, un passaggio basato su un rapporto con Bologna che vuole vedere una grande attenzione alla solidarietà e agli interventi che si possono fare sulla società bolognese e su Bologna. Credo che ci sia grande sensibilità da parte nostra e grande sensibilità da parte di Bologna e quindi penso che faremo delle buone cose per la città.